allora facciamo finta che siano dei pompon giochiamo a fare le cheerleader ok allora un braccio in alto l'altro di lato peso sulla gamba di terra porto il gomito al ginocchio in questo modo voi portatelo io non riesco più due e il braccio l'altro braccio si alza e si abbassa 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 stendo bene 1 cambio e vado 1 2 3 4 5 6 7 scendo con quello di lato 8 7 6 su bene 4 3 2 e 1 allora ora facciamo un incrocio e un'apertura in alto sono pompone incrocio e apertura in alto ok quando aprite voglio vedere proprio il colpo si va andiamo incrocio 1 e 2 e 3 4 5 6 7 8 e ancora 8 7 6 stendo bene 4 anche se brucia 3 2 e 1 bruciano un po' ne facciamo ancora 8 8 8 si ah se no non mi prendo eh per la squadra di cheerleader non mi prendo se no eh vado 1 su 2 su 3 4 5 su 6 su 7 su 8 cambio qui 1 su 2 e 3 su 4 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 stop com'è? ci sono 8 incroci? si va? 1 2 3 4 5 6 7 e 8 stop facciamo 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 un po' facciamo un po' di bicipiti alternati ma sì intanto che riposano intanto che riposano intanto che riposano le spalle 4 5 6 6 perché ce ne sono ancora 6 6 6 eh 7 8 8 8 7 6 5 4 3 3 4 4 2, ferma la schiena, continuiamo, 1, 2, come vanno le spalle? Possiamo farne ancora 6, 6? Sì, ancora 6, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, si va, 6 più 6, 6, 1, su, 2, 3, contrario, o no, giusto, 4, 5, 6, cambio, 6, 5, 4, 3, 2, si va con gli incroci e 1, 2, 3, 4, 5 e 6, bruciano bicipiti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ce ne stanno 4 e 4? La Laura dice cosa saranno mai? e 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, incroci, 1, 2, 3 e 4, bicipiti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli ultimi 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, sto! 2 assieme, ne prendiamo 2 assieme, sono da un chilo a un chilo, quindi abbiamo 2 chili su. Allora, io mi appoggio con la mano perché non riesco più a schiacciare la pancia, voi appoggiatevi col gomito, ok? Cosa facciamo? Un rematore, quindi su e stendiamo facendo lavorare il tricipite, si ritorna giù, ok? Uno, stendo e torno, uno, stendo bene in alto in alto e torno, due, stendo bene in alto in alto e torno, 3 stendo e torno, 4 stendo e torno, 5 stendo e torno, 6 stendo e torno, 7 stendo e torno, 8 stendo e si cambia braccio, si cambia gamba e si va, 8 stendo e torno, 2 stendo e torno, 3 stendo e torno, 4 stendo e torno, 6 stendo e torno, 7 stendo e torno, 8 stendo e torno, cambio. Allora questa volta da qui invece di fare il rematore apriamo di lato, apro lì, non il lancio è 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Qui lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, cambio. Allora riprendiamo il rematore e estensione del tricipite, vado, 1 stendo e giù, 2 stendo e giù, 3 stendo e giù, 4 stendo, 5 stendo, 6 stendo, 7 stendo, 8 stendo e cambio, vado, e giù, 4 stendo e giù, 5 stendo, 6 stendo, 7 stendo, 8 stendo, cambio. Cambio, fly, quindi apertura laterale, 1, 2, 3, 4, 5, guardate avanti voi, 8, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pesetti, schiena a terra, ok. Allora continuiamo a lavorare con i nostri pesetti, come portiamo in alto le braccia perpendicolari nel terreno. Piego i gomiti e stendo, tricipiti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visto che sono leggerini, passo i pesetti, tutto in uno solo braccio, se voglio tengo pure il gomito, ottengo i bracci in avanti di modo che non cada e precipite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Passiamo passo i pesetti dall'altra parte e si va, tricipiti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Ok, adesso li prendo tutte e due con tutte e due le braccia, scendo, scendo, scendo indietro e torno in alto, pull over su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Un peso da una parte e un peso dall'altra, facciamo, appoggiamo i gomiti a terra all'altezza delle spalle, facciamo un ponte inverso e intanto uniamo i pesetti sopra il petto, ok? Quindi facciamo pettorali e glutei in contemporanea, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Giù, riprendiamo i pesetti solo con un braccio, l'ultima volta tutto, tricipiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambio, vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Unisco i pesetti, riprendo con tutte e due le mani e dietro salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 10. 4, 3, 2 e 1, divido ancora i pesi, gomiti appoggetti al terra, altezza delle spalle, ponte e pettorali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, ok, appoggiamo i pesi a terra, portiamo le gambe in alto, apri e chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ok, piedi a terra, lunghi lunghi, lunghi le braccia, distanzio il più possibile le mani dai piedi e respiro profondamente. Ok, porto le ginocchia al petto, appoggi i piedi a terra, apro le braccia. scendo con le gambe a destra o a sinistra, testa dalla parte opposta, salgo, cambio parte, centro, dondolo sulla schiena e mi siedo. Tutto bene? Sì, caldo, 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 caldo. ci sediamo qui. Chi vuoi che ve la faccia? Io? Io e porterò qui il popetto. salgo e pian piano srotolo la colonna. giro le spalle, respiro nel su e fuori tutto giù. grazie. 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 grazie.